Questi qua sono i pugni, quando voglio il braccio e l'altro braccio faccio così, per quando usare le gambe uno, due e poi così, questo invece è la rovesciata. Quando voglio il braccio e l'altro braccio faccio così, due e tre, una gamba, una altra gamba così, uno, due e tre, come i pugni, uno, due e tre, poi quando fai un altro movimento, quando si stanchi così, uno, due e tre, come i pugni così, uno, due e tre, uno, due e tre.